Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Achille Costacurta compie 20 anni e sembra finalmente aver messo la testa a posto. Dopo essere stato al centro delle polemiche per le sue uscite sui social, il figlio di Martina Colombari, Alessandro Costacurta, sembra aver preso una nuova direzione. In una diretta su TikTok, ha ammesso di aver trascorso più di un anno in un centro di recupero, un'esperienza che lo ha fatto crescere. In occasione del suo compleanno, la mamma Martina ha condiviso una foto tenera in cui bacia il figlio, ricevendo una valanga di auguri da VIP e fan entusiasti. Martina Colombari ha fatto uno strappo alla regola per augurare buon compleanno al figlio, pubblicando una foto tenera dei due su Instagram. Achille sembra più sereno e equilibrato rispetto al passato. E alla festa per il suo compleanno si sono uniti numerosi VIP amici dei genitori, tra cui Laura Chiatti, Eleonora Pedron, Elisabetta Gregoraci, Caterina Milicchio, Cristian Brocchi, Saturnino e Tosca d'Aquino. I fan non sono da meno negli auguri, dimostrando affetto e sostegno per la famiglia. Dopo il suo ritorno dal viaggio in Brasile e Colombia, Achille sembra aver ristabilito un forte legame con entrambi i genitori. Passa più tempo in famiglia, gestisce i social in modo più contenuto e sobrio e si è mostrato pubblicamente con la madre Martina Colombari alla finale di Miss Italia 2024. La strada è ancora lunga, ma sembra che Achille abbia imboccato la direzione giusta.